Oggi vi racconteremo la storia della renavata. Ecco, allora, c'è strada sempre più di 40. Non avevo capito che era mamma. Mi chiamavano le chanze e lì con l'avanzato, poi tutti quelli stanno giù. E' giù, è giù! E' giù, è giù, è giù! Non c'è strada più! Ci manda saluti in quattro minuti, un colpo di rosso, poi un po' e due! E' viva quei bignoni con il vero e rosso! E' viva quei bignoni con il rosso di rosso! Gignoni e piccolini, amici dei bambini! In un laboratorio, segreto un po' fatale, si è sempre al lavoro! Dall'alba al tramonto, noi tre fai con i bambini che vanno in tutto il mondo! E poi dopo Natale, a bordo di un'isodità, consegna puntuale! E' viva quei bignoni con il vero e rosso! E' viva quei bignoni con il rosso di rosso! Gignoni e piccolini, amici dei bambini! I cartelli sono pronti, capo! E' bene! Adesso bisogna sistemarli! Ci pensiamo noi, capo! Metteteli bene in vista, mi raccomando! Ci pensiamo noi, capo! Prego, prendiamo il cuore, capo! E' vera! Si, c'è una tempesta con i fiocchi! Ah! E comunque, i cartelli sono tutti già stimati, capo! Bene, grazie! Prima di tornare al lavoro, passate in cucina! Avere una bella gioccolata, canta! Ci sono anche i pasticini, se ne vuole più buoni! Adiosi, capo! Ragazzi, ci sono tutti pronti! Diamo la responsabile del reparto caricamento, pacchiera, porto a capo! E' tutti inquiettato, capo! Diamo la responsabile del reparto caricamento, pacchiera, porto a capo! La slitta è carica, anzi è stracarica! Diamo la responsabile del settore, consenna la porta a capo! Ecco qui la lista dei dividi, da dividi per continenza, potete partire! Bene, bene, avete fatto tutti i nostri lavoro! Purtroppo, dopo non possiamo partire! Gertrude è malata e senza la sesta arena la slitta risulterebbe sbilanciata! Perché non togliere anche la quinta, allora? I quattro! Ma guarda, che idea! No, solo quattro! Io sono troppo grasso! Ho le mani, c'è troppo fudelle, ma le trovo fudelle, io non sono troppo grasso! Ho le mani, c'è troppo sfogliante, come tante altre vede, io non sono troppo grasso! Ho le mani, c'è troppo sfogliante, come tante altre vede, io non sono troppo grasso! Ho le mani, c'è troppo sfogliante, mille vede, quando è novole, sempre la dieta! Questa è un fisico da teatro! Questa è un peperone altissimo, come soffia, però non è qualità per il tempo, purtroppo! Comunque mi manda parlare di un peperone, certo! E poi la mia vita, adesso mi fa l'attenzione! Grazie!